Mr. Massoni, tre punti, un 2-1 che dà morale, fiducia, che fa classifica, vinto soprattutto con una gran prova di carattere. A mio modo di vedere la squadra ha lottato veramente per 94 minuti con tanta intensità e sacrificio. Quello che dobbiamo fare, nel senso che questa vittoria qua è una vittoria che sotto il profilo della classifica è importante perché ci dà tre punti, ci dà iniezioni sul fatto sia della fiducia sia vincendo comunque un derby che è una cosa importante. Detto questo, la cosa che ci dà di più è la parte di autostima perché la squadra che abbiamo incontrato è una squadra che come organico e come potenzialità è di un campionato diverso dal nostro. Eppure siamo riusciti a sfruttare le occasioni, a gestirle nella maniera migliore, a indossare l'elmetto quando è il momento di farlo, a colpire quando è il momento di farlo e senza dimenticare che questo, nel senso, è un plauso ai ragazzi per l'intensità che ci hanno messo e un 96-97 in campo tutta la gara, un 96-97 negli ultimi 5 minuti. Quindi il progetto Fomarco va avanti. E tra l'altro segnano le punte, i vecchi dicevano quando segnano le punte è indici di salute. Sì, ma delle punte inteso della gara di oggi io prendo i due gol, perché ci mancava che non li prendessi, ma prendo l'aiuto che hanno dato tutta la squadra per tutta la partita, nel senso che loro hanno caratteristiche di giocare e soprattutto quando la palla l'abbiamo noi. Invece oggi ci hanno dato una mano in fase di non possesso, hanno rotto il riscatto ai loro difensori. È un risultato importante che deve essere un ulteriore passettino in avanti nella crescita di questi ragazzi. Quindi il lavoro prosegue, linea verde, a oltranza e risultati su questa base. È quello che facciamo adesso, per dirti, ti dico una cosa così al volo, vedendole un attimo, abbiamo due vecchi che non recuperiamo assolutamente per mercoledì, però andiamo a momentino, buttiamo dentro i nostri ragazzi. Come ben sai, di direttore noi abbiamo tante qualità e il lavoro va avanti. L'importante è che non eravamo morti 15 giorni fa, non siamo dei fenomeni oggi. Oggi è un risultato importante, permettimi di dedicarlo alla società per quello che comunque ha sofferto in questi anni, per quanto ci teneva e un complemento ai ragazzi perché a un certo punto abbiamo giocato solo di cuore.